Ragazzi buongiorno, state probabilmente voi in questo momento vedendo il video di stamattina su Pallotta e Freaky E' sempre mattina, c'è una guida a casa mia, stanno tutti dormendo Devo grazia, devo probabilmente cambiare le ore di sonno perché così veramente riesco a godermi un po' di silenzio Però che cosa vi voglio dire, che probabilmente in giornata sarà già uscito anche un video sui prestiti Cioè sull'impatto dei prestiti in questa situazione sulla Roma Ma se non avete visto il video andatela a vedere Qui oggi io parlo di considerazioni di carattere politico Che diciamo sono considerazioni sempre basate come faccio in ogni video anche di carcere e finanza E come ho fatto nell'analisi in questi mesi della situazione economica della Roma e della gestione della Roma Sono considerazioni di carattere razionale Cioè adesso in questi giorni che cosa è successo? E' successo che abbiamo visto sbandierati degli aiuti che giustamente sono arrivati dalla Cina Dalla Russia, da Cuba, dall'Albania E sono arrivati anche degli aiuti dall'Unione Europea E' arrivato adesso leggero ieri 100 milioni di euro di materiali sanitari E comunque di prodotti utili in questa situazione dagli Stati Uniti Quindi sono arrivati aiuti anche dagli Stati Uniti E sono arrivati aiuti dall'Unione Europea all'inizio di questa epidemia Con dei fondi che erano stati stanziati Ma veramente all'inizio, all'inizio, all'inizio di questa epidemia L'Italia ha ricevuto parecchi fondi dall'Unione Europea Il discorso qual'è però? Il senso di questo video qual'è? Che siamo in un momento chiaramente in cui abbiamo la mente offuscata dalla situazione che stiamo vivendo E ci sta tutto Però cerchiamo pure di ragionare Perché se mi arrivano aiuti dalla Cina Se mi arrivano aiuti dalla Cina Ammesso e non concesso, apro e chiuso una parentesi Che le informazioni che ci erano state date su questa brutta situazione Che si riferiva, che stava vivendo la Cina Erano informazioni corrette Perché da quel che si riesce ad intuire Anche i media cinesi in questo momento Incominciano ad avere dei dubbi Sul numero dei decessi avvenuti in Cina Si parla addirittura di cifre 10 volte superiori rispetto a quelle che sono state pubblicate Chiusa parentesi, forse ci ritorneremo più là Perché hanno contato le urne cinerarie ragazzi Quando ci sono delle immagini in cui c'è la distresa di urne cinerarie C'è stanno i lotti, hanno fatto le moltiplicazioni e non gli ritornano i conti Però vabbè A parte questo A parte questo ragazzi Il discorso è che cerchiamo di ragionare Cioè se mi arrivano aiuti dalla Cina Innanzitutto cerchiamo di quantificare quanti aiuti sono Cioè se mi mandano i cinesi un aereo con 30 medici E me li mandano l'Albania Chiaramente l'Albania ha fatto uno sforzo 10 miliardi di volte superiore rispetto a quello della Cina Cioè se mi arrivano gli aiuti dalla Russia Che in questo momento comunque Ha una situazione abbastanza sotto controllo Per quanto riguarda i dati ufficiali Poi anche lì chi lo sa Ma se mi arrivano aiuti dalla Russia Io li ringrazio Però cerchiamo anche di capire i motivi per cui stanno arrivando questi aiuti in questo momento Perché lì stanno sbagliando i media Certo qualcuno potrebbe dire Meglio qualcosa di niente Sì e no Perché poi Io sono il primo a dire che l'Unione Europea ragazzi Così com'è Tanto vale smantellarla domani Sono il primo a dirlo E guardate C'è arrivato Vedo degli attacchi dell'Unione Europea Fatti dal Premier e il Presidente del Consiglio Quindi Vuol dire che siamo proprio quasi alla frutta dell'Unione Europea Però dall'altro lato manca affatto e prende in giro Cioè se mi arrivano aiuti da Cuba Se mi arrivano aiuti da Cuba E allora io ragazzi vi dico Questi aiuti sono aiuti sentiti Sono aiuti sinceri E sono aiuti per cui noi dobbiamo dire grazie a Cuba Se mi arrivano aiuti dall'Albania Cioè io all'Albania gli devo dire grazie Se mi arrivano aiuti dall'Unione Europea In questo momento Tardivi Ma io grazie all'Unione Europea non glielo posso dire Se mi arrivano 100 milioni dagli Stati Uniti Mi dovevano arrivare due mesi fa Tre mesi fa Cioè in Unione Europea abbiamo visto scena in cui sono state bloccate le mascherine Abbiamo visto scena in cui non hanno fatto rimbalzare le mascherine Che erano destinate a noi Chi l'Italia aveva acquistato da altri paesi Cioè abbiamo visto delle situazioni Folli in Unione Europea Come possiamo pensare di dire grazie all'Unione Europea In questo momento Come possiamo pensare di dire grazie alla Cina e alla Russia Senza neanche pensare che magari c'è un doppio C'è un secondo fine Su questi aiuti Qualcuno potrebbe dire sì però intanto te li hanno mandati Sì però intanto cosa stanno facendo Cioè la considerazione che ha fatto Calenda l'altro giorno Cioè in questo momento l'Italia è chiusa Cioè le fabbriche in Italia sono chiuse I cinesi che stanno facendo Chiaramente stanno soddisfacendo Tutta quella domanda Che prima veniva soddisfatta Dalle aziende italiane In altri paesi del mondo Che magari hanno ancora dei consumi Che stanno girando Quindi ci possono essere queste situazioni E basta poco a ripagare questi aiuti Che sono arrivati Cioè non stiamo parlando di situazioni Che ti vanno a rivoluzionare completamente La lotta Contro questo Questa cosa che stiamo Lottando in questo momento Ragazzi non lo posso dire perché È una parola che è tabù qui su Youtube Quindi il discorso è questo qui Il video in realtà è molto molto semplice Io volevo semplicemente fare questa considerazione con voi Perché ci tenevo a farla Dato che si sta comunque diffondendo questa cosa Del tipo ricordiamoci di chi ci ha aiutato ragazzi Ricordiamoci di chi ci ha aiutato Ma non ci facciamo prendere in giro Cioè non ci facciamo prendere in giro Da 10.000 mascherine O 300 respiratori Perché non sono questi gli aiuti Di cui l'Italia avrà bisogno dopo Cioè è un aiuto adesso Per chiarità Cioè è come se Se ti sei rotto una gamma E ci metti in cerotto Cioè per chiarità Meglio di niente Ma probabilmente Non cambierà assolutamente la situazione Fatemi sapere la vostra ragazzi Io con questo ho concluso Il video è abbastanza breve Questo era quello che vi volevo dire Ciao dati e ciao a tutti quanti Grazie a tutti